Ho partecipato oggi alla sessione Partnership e Innovazione di Sanità, portato alla posizione di Metronic Italia da questo punto di vista. Metronic si sta impegnando molto in quest'area dell'innovazione, soprattutto perché nel mondo dei dispositivi medici in questo momento è chiesta una presenza nella ridefinizione dell'assetto del mondo dei medical devices. Da questo punto di vista ci trova al centro di questo dibattito e è proprio su questo che parliamo della partner per l'innovazione. Noi abbiamo lanciato il concetto di Value Based Care, che è un concetto che viene portato avanti da Metronic a livello internazionale e che prevede sostanzialmente un approccio diverso, di andare oltre a quello che è oggi la vendita di singoli prodotti, singoli servizi, ma andare verso la vendita di esiti clinici. Quindi di essere parte integrante nel sistema sanitario per far sì che questi sistemi, che questi modelli possano contribuire alla tenuta complessiva del sistema, soprattutto per quanto riguarda anche la parte delle gare, ma anche i modelli di partnership. La partnership è un elemento fondamentale perché bisogna andare oltre la mera fornitura, ad essere il fornitore di quel centro, di quell'ospedale, ma di essere un partner a tutto tondo, quindi di condividere percorsi, di definire bene quali possono essere le attività più adeguate per il bene del paziente. E proprio su queste cose, quindi nella misurazione dei percorsi, nella facilitazione dei percorsi per l'accesso alle terapie, ma soprattutto nella misurazione di quelli che sono soprattutto gli outcome clinici, penso che questo sia uno dei punti fondanti per un'attività di partnership nei confronti delle istituzioni. E quindi su questo ci stiamo muovendo, cercando di portare avanti questo tipo di approccio, soprattutto verso le regioni, verso le aziende ospedaliere, dove siamo già presenti, ma portando questo nuovo approccio che sicuramente avrà un impatto positivo dal punto di vista economico, ma anche positivo nel fornire la miglior soluzione al bisogno di salute dei pazienti.